Capricorno non è una giornata ideale questa, per voi sarete piuttosto distratti anche da questo transito della luna nel Sagittario, non riuscirete a trovare il ritmo in questa giornata in cui tutto sembra essere complicato e devo dire anche un po' noioso amici del Capricorno perché vi trascinerete un po' in questa giornata dovendo fare quasi per forza delle cose, anche per voi comunque la situazione è netto miglioramento nei prossimi giorni, approfittate però ancora di questa Venere, nonostante questa indecisione, nonostante questo desiderio anche di starveno un po' per i fatti vostri, Venere ci dice che in amore dovete agire e oggi stesso prendere una decisione e dare una risposta.